Il palazzo Amatori Costruito nel Settecento, è stato acquisito dal comune di Amorosi che lo ha fatto diventare centro culturale per mostre e manifestazioni. È qui che si intrecciano storie di amore e di libertà. Amo Te, il festival teatrale che ha accolto il bisogno di dire e di sentire, di liberare il sentimento, di trasformare il tempo in storia e il desiderio in visione. La celebrazione dei luoghi, quelli dove il teatro non è mai stato, gli spazi aperti dove la finzione si riduce per dare necessariamente sfogo al delirio della passione e alle infinite storie di libertà e d'amore che ogni singola vita dischiude. Il racconto inizia dai bambini, le emozioni ci accompagnano per sempre. Riacquistare il contatto con l'ambiente rurale E ancora il cortile di Palazzo Maturi, ad inebri armi di suggestioni e sapori. La Sagra della Pannocchia propone l'aperitivo rurale. La grande tradizione no gastronomica sannita coniugata alla tipicità del mais. Il tutto in uno scenario assolutamente d'eccezione. Balle di fieno trasformate in sedute comode ed accoglienti, con botti di vino come appoggio. La grande tradizione no gastronomica sannita coniugata all'acoggiare. In paese e poi, sgranocchiare una pannocchia non ha età. Grazie per la visione!